Dalla Regione Campania arriva un sostegno alle piccole e medie imprese nella realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico e industrializzazione, l'ammontare delle risorse pari a 20 milioni di euro. L'intervento è frutto di una programmazione regionale, si legge in una nota di Palazzo Santa Lucia, finalizzata a sostenere progettualità di elevato livello qualitativo e tecnologico e capace di tradursi in un vantaggio competitivo attraverso la riqualificazione dei cosiddetti settori maturi rispetto ai mercati emergenti e lo sviluppo di imprese innovative. L'avviso promuove il finanziamento di progetti di trasferimento tecnologico e industrializzazione promossi da micro, piccole e medie imprese campane. Prevede la concessione di agevolazioni in conto capitale e contributi alla spesa, ai sensi della normativa europea vigente. I progetti prevedono spese e costi ammissibili non inferiori a 400 mila euro, non superiori a 2 milioni di euro e una durata a partire dalla data di notifica del provvedimento di concessione non superiore a 12 mesi. I progetti saranno sottoposti ad una fase istruttoria e una fase di valutazione, a seguito della quale si procederà alla concessione del contributo che avverrà sulla base della posizione assunta nella graduatoria fino all'esaurimento dei fondi disponibili.